Nella mercoledì delle ceneri, inizio della quaresima, il Papa all'udienza generale ha parlato della istituzione del Giubileo e del suo significato biblico, così come emerge dal Libro del Levitico, un tempo di pace e prosperità, un condono generale, ma soprattutto un grande evento di liberazione per tutto il popolo di Dio. Con il Giubileo, ha affermato Francesco, chi era diventato povero ritornava ad avere il necessario per vivere e chi era diventato ricco restituiva al povero ciò che aveva perso. Il senso dell'anno santo secondo Bergoglio è ancora questo, convertirsi, allargare il cuore con generosità, distribuire la ricchezza in parti eque. Ma il Giubileo di cui parla la Bibbia è anche e soprattutto un Giubileo di misericordia, per chi è vissuto nella ricerca sincera del bene del fratello bisognoso, anche mettendo mano alle tasche. Dunque, il monito di Francesco ai fedeli è stato chiaro, condividere, ospitare, donare a chi è nella miseria parte dei propri stipendi, dei risparmi e delle tante cose che si possiedono e che a volte si sprecano, senza fare calcoli moschini, senza pretendere interessi impossibili, come fanno gli usurai. Quante famiglie sono sulla strada vittime dell'usura. Ma per favore preghiamo, perché in questo Giubileo il Signore tolga del cuore di tutti noi questa voglia di avere di più, che ci torni generosi, grandi. Quante situazioni di usura siamo costretti a vedere e quanta sofferenza e angoscia portano alle famiglie. E tante volte, nella disperazione, quanti uomini finiscono nel suicidio perché non ce la fanno e non hanno la speranza. Non hanno la mano tessa che li aiuti, soltanto la mano che viene a farle pagare l'interesse. È un grave peccato l'usura, è un peccato che grida al cospetto di Dio.